Salve a tutti ragazzi, sono Kingslave Corporation e oggi siamo qui su God of War. Continuiamo. L'ultima volta ci siamo lasciati che siamo entrati nella luce di H5. Abbiamo riempito il Bifrost, abbiamo scoperto il falso degli affi scuri, e niente, adesso stiamo andando in biblioteca perché dobbiamo andare a scontare. Mi ricordo di seguire su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. sono quasi guarito, quasi però, ho ancora un po', oh va, allora, qui, ok, 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 che non ho imparato questo? Ah, adesso c'è. Padre, ho una confessione da te Quelle voci che sento Beh, non è la prima volta Quando abbiamo incontrato Broker La sua bestia mi ha detto che qualcosa si nascondeva fra gli alberi Per questo non voleva muoversi Te l'ha detto Beh, potevo sentire quello che sentiva lei Le sue paure Se succede ancora, devi dirmelo Capito? Promesso Cosa dice? Sì Che cosa dice? Parla dell'eterna guerra per la luce Credi che finirà adesso? Improbabile Adesso Per la luce Per la luce Per la luce E adesso? Abbiamo la luce. A me di darla. È pazzesco pensare che tutti i regni esistono nello stesso spazio, uno sopra l'ala. È come se la sala ci facesse viaggiare senza muoverci. Allora. Broca, siamo stati in un altro regno e abbiamo visto tuo fratello. Beh, non in quest'ordine. Tu hai permesso a quello smidollato di toccare la tua ascia? Lo sai che quello ha perso il suo talento, no? Un giorno ho preso e me ne sono andato. Tentava di trascinarmi a fondo con lui. L'ha rovinata la nostra piccola? Anzi, al contrario. Beh, anche un maiale cieco può scovare un tartufo ogni tanto. Ma sai che cosa conta realmente? La coscienziosità. E io trasudo coscienziosità da tutte le parti. Che cosa hai fatto? L'ho migliorata. Bene. Quando la finite di ciondolare vi chiederò un favore. Cosa c'è, nano? C'è un alchimista, Andvari, che lavorava alle miniere di Volundr. Non ho sue notizie da un centinaio di inverni. O giù di lì. È probabile che sia morto, ma forse voi riuscirete a trovarlo. È un nano come me. Ha un bell'anello verde e mi deve un favore. Lo cercherete? Se lo incrociamo. Che cosa volete? Una cosa per il ragazzo? Ok, allora. No, non abbiamo... Tornate presto. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando. Ricordi la strada per arrivare all'alito nero. Certo. Dobbiamo percorrere il Volte verso la torre di Banana. Torniamo verso l'alito nero o esploriamo? A te la scelta. Hai notato qualcosa laggiù? Quella torre? Non vedo torre. Forse ho le visioni. Mamma mia. La statua di Thor che abbiamo visto prima, dopo la caverna della strega. E in quale direzione è? Siamo a metà mattinata. Il sole è laggiù, perciò... È sud. Sud-ovest? Brava. Preparati! Pronto! Perciò che non tenere. Agh! Sono andato bene, no? Non posso leggere nemmeno questo, ma sono diverse dalle altre. Sono andato bene, no? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tu lo sai, a tutti. 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 veramente. Sì, 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 sì. Padre occhio! Una volta mi fai paura. È finita. Non passo. Un altro cristallo di luce. Noi. 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 All'està la scena. B, L N, R guarda questo posto sembra così morto volevo dire antico ma va bene anche quello non sta Oh, no. 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 Ok, andiamo. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.